Silacusa a 700.000 euro per la strada provinciale 55 Belvedere a Città Giardino e per la bretella Belvedere alla stazione Tarja. Nonostante l'esercizio provvisorio 2022 il personale della ex provincia di Siracusa continua in maniera encomiabile a produrre risultati positivi per il nostro martoriato territorio. Questa volta ad essere interessate sono due strade che si dipartono entrambe da Belvedere con la nomina del responsabile unico del procedimento. L'importo complessivo dei lavori è pari a 700.000 euro e riguarda la strada provinciale 55 che partendo da Belvedere e attraversando Città Giardino arriva fino alla ex strada statale 114 e la cosiddetta bretella Belvedere che partendo dalla strada provinciale Floridi a Priolo arriva fino alla stazione di Tarja. I lavori riguarderanno la manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza. Un altro risultato positivo ha concluso Vinciullo messo a segno dai dipendenti funzionari e dirigenti della ex provincia che dimostra ancora una volta la necessità per le province di ritornare in vita e come sia stata a suo tempo corretta la mia battaglia per impedire che venissero sciolte così come corretta fu la mia determinazione a far approvare la legge regionale che riportava in vita le ex provincia e che non è stato opportunamente difeso davanti alla Corte Costituzionale dal Presidente Governo regionale. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.